Ciao a tutti, oggi la MM Reviews con il rischio di essere presa in giro da tutto il quartiere presenterà una video recensione delle lampade per le autovetture, modello Hatshark, sono due lampade da 90W ciascuna, mitura H4 come ho detto, distribuite dalla Smart Vision It. Questa è la confezione, all'interno arriverà oltre alla nostra cara lampadina, arriveranno anche le ballast che per motivi televisivi ho già montato con le fascette per velocizzare tutto quanto, arriverà la ghiera, quella da inserire all'interno del corpo come adattatore, una brucola che serve per serrare la lampadina al fermo, ovviamente il nostro manuale di istruzioni, proviamo a montare tutto quanto, abbiamo rimosso le nostre lampadine H4 dal connettore, facciamo vedere dove è il connettore, lo c'è direttamente lì dentro, molto semplice comunque, sembra più difficile di quello che realmente è. andiamo a installare il nostro connettore, ecco fatto, abbiamo alloggiato all'interno del corpo, una volta messo all'adattatore dobbiamo fermarlo, c'è questa levettina, non so se si vede, la vedete, eccola qua, una volta fermato l'adattatore prendiamo la nostra lampadina, eccola qua, facciamo ruotare fino alla fine, ecco qua, ecco fatto, colleghiamo i connettori, primo connettore eccolo qua, collegato, il secondo connettore eccolo qui, spero che si veda, è un po' fuori dall'inquadratura ma non posso fare altrimenti purtroppo, comunque sono due connettori, sono facilissimi, anche se un po' duri, ecco fatto, abbiamo montato la nostra lampada, è bella salda, non si muove da qui da nessuna parte, abbiamo ovviamente in dotazione anche le fascette per bloccare le ballast al telaio, per vedere un po' di spostamenti, vediamo adesso che effetto fa, eccola qua, in funzione, ecco i nostri fari led perfettamente montati, sono accecanti, sono di un bianco veramente potente, sono veramente molto forti e anche belle da vedere, rieccoci tornati, mi è rimasta solamente la scatola di queste lampadine AT Shark del Smart Visioning, però comunque diciamo, le consigliazioni posso fare comunque ugualmente, nonostante la figuraccia che ho fatto con tutto l'avvicinato per essere mi fatto vedere mentre smontavo e rimontavo tutto quanto, vi posso dire che rifarei assolutamente l'acquisto, veramente un ottimo prodotto, facile da montare, ovviamente serve un minimo di manualità ma poca roba, io non sono un tecnico, il risultato è eccellente, le luci sono veramente molto bianche e molto potenti, veramente rispetto a un, le lampadine normali è un'altra cosa, un'altra storia, quindi, visto anche il prezzo che è assolutamente competitivo, la qualità dei materiali che è anche ben fatto, perché come avete visto i prodotti sono di alta qualità, non sono prodotti commerciali così da temporio, detto questo, a nome mio, a nome di Lord Fener, vi ringrazio e alla prossima recensione, ciao a tutti! Ciao a tutti!